Benvenuti, Redmi Watch 3 in prova Sì, questo è l'angolo degli Smart Sport Watch E mi fa incazzare come una bestia Perché avete letto dalla copertina Best Buy Ma gli banca uno per far 31 Cosa? Il sensore di luminosità Perché per il resto è perfetto Risposta alle chiamate Bellissimo display AMOLED Che si vede sotto ogni condizione di luce Un sacco di watch face carine Buono il GPS Buono il sensore di battito Insomma, anche il prezzo ci sta Ma quell'uno, vabbè, comunque è un best buy Andiamo a scoprire perché Sole cattivo e basso L'umistà che non è automatica ma l'ho messo al massimo E si vede bene, direi attività passeggiata Vediamo come prende il GPS tra i palazzi Entrati in un negozio mi dà segnale GPS debole, ovviamente Però è bello che lo segnala Mamma mia, se non sono allenato 46 minuti e sono morto Swipe a destra e si tiene premuto qua per terminare Ci dà un riassunto della camminata Con tutti i dati Adesso voglio vedere la batteria Perché sono partito con il 40% E sono adesso al 37% Quindi circa in 45 minuti Un 3% di batteria Ti chiedo una cosa, ti sfrutto Come mi senti? Benissimo Benissimo? Aspetta però perché io ti sto parlando da una 500X Ah ok Non è chiave a un altro parlanti Però ti sento bene Ma attenzione perché Chiama ascensore Ta 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 Si funziona a Alexa Integrata Basta schiacciare il pulsante a lungo E voilà Fagli fare quello che avete programmato Immancabile il giretto In bici Vai Ciclismo all'aperto Oh raga Appena aperto C'è Ha già preso il GPS Ecco GPS Fulmineo Guardate Segnala Vedete Ogni Kilometro O potete sentare Voi Quando volete La Visita media Sono a tappo di Motore E mi segno giusto I 25 Kilometri orari Però voglio vedere La velocità A tornare a zero Sono fermo Ta ta 19 5 1 0 Direi Abbastanza bene Battito 132 Mi sa che hai ragione Ma veniamo alle conclusioni Ovviamente all'always on display Anche se si vede non benissimo Soprattutto quando c'è tanta luce Perché anche qua Non essendoci il sensore Alla fine rimane sempre a questo livello Di luminosità massima Però è molto leggero Sotto ai 40 grammi Bene il cinturino Che vedete poi Si va a Incastrare E poi potete mettere La parte precedente Sotto Così che non vi dia fastidio Si può cambiare Velocemente Ecco L'unico Forse lo spessore Che non è limitato Ma il fatto che sia molto leggero Non fa Che sia questo un problema Poi Display Ce ne sono tanti C'è tanta personalizzazione Si possono scaricare Dallo store Ma già quelli predefiniti Sono appersonalizzabili E anche molto carini E poi la batteria Mi è piaciuta Perché Si carica Tra l'altro Questo è il carica batteria in dotazione Cioè che non c'è solamente un cavo Si attacca qua dietro In maniera magnetica In circa un'oretta E si scarica Con il mio utilizzo Quindi notifiche attive Sempre Il battito cardiaco in 10 giorni Quindi 10% al giorno Con il GPS Circa 5-6% all'ora Swipe giù con le notifiche Ecco Le notifiche si possono leggere E non si può rispondere Si può solo aprire l'applicazione Poi sullo smartphone E l'altra cosa che ho notato E l'altra cosa che ho notato è che se avete un messaggio Whatsapp Telegram Non lo leggete Vi arriva un altro messaggio Telegram L'orologio vibra Buona la vibrazione Ma vi viene riproposto sempre il primo messaggio Poi dovete scorrere per arrivare al secondo che vi è arrivato E poi swipe sopra per i comandi rapidi Anche qua una piccola critica Ce ne sono tanti Non c'è quello per variare velocemente La luminosità Che è poi l'unica cosa che bisogna fare Perché è l'unico sensore che gli manca C'è come vedete Il non disturbare L'attivazione della torcia Il trovatelefono Poi c'è sotto qua Ho sbagliato Impostazioni Modalità cinema Che va a spegnere tutto E poi questo pulsante Per eliminare l'acqua Sì perché lui è impermeabile 5 atmosfere Quindi 50 metri E può monitorare anche il nuoto Con il battito Che viene preso anche sott'acqua Pulsante qua a destra Schiacciato a lungo Come dicevo Attiva Alexa Cosa comodissima Schiacciato brevemente Si entra nel menu Ciclismo all'aperto Camminata Corsa Attivitata Pirulà Nuoto in piscina Salto della corda E poi sotto menu Con un sacco di sport acquatici C'è anche la vela L'unica cosa Non so se avete visto anche adesso Non sempre precisissimo A prendere i tocchi delle dita Però per esempio HIIT Quindi Cardio sì Tanta fatica Stretching Training Ci sono veramente Un milione di sport Monitora praticamente tutto E poi qua la possibilità di mettere in non disturbare In modalità notte E di andare direttamente alla parte telefono Chiamate dove non c'è il tastierino Si possono andare a mettere dei preferiti Ma la cosa che mi è piaciuta tantissimo È la qualità di come ci sentono Quindi ottimi microfoni Il volume dell'altoparlante non è altissimo Ma alla fine basta spostare magari un attimino L'orologio vicino all'orecchio E si sente molto bene E orologi di questa fascia di prezzo Con questa feature Io sinceramente non ne conosco Cioè Bello schermo Monitoraggio preciso GPS accurato SPO2 accurata Con anche il microfono E l'altoparlante Possibilità di controllare la musica Quando c'è il player dello smartphone E controllare anche la fotocamera Cronometro Sveglia Timer E nelle impostazioni Qua la possibilità di settare i quadranti Suoni e vibrazioni Dicevo prima Molto buona la vibrazione Non precisa Non è toc 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 All'Apple Watch Un po' zzzzz Ma comunque si sente al polso E poi qua finalmente L'impostazione Della luminosità Luminosità che si alza E si abbassa Così C'è la possibilità di attivare Disattivare Il movimento di attivazione Che è molto preciso L'always on display Che può essere anche intelligente Cioè si può disattivare Quando o non si indossa Oppure quando sente Che io dormo E poi ci sono delle features Che faccio vedere Dalle applicazioni interessanti Per automatizzare un po' Il fatto che non ha Il sensore di luminosità E poi vabbè Il non disturbare Che si può anche programmare E il reglamento automatico Degli sport Eccetera 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 Per il resto Le funzioni sono quelle Di tutti gli Smart Sport Watch L'applicazione da utilizzare È la Mi Fitness Mi è piaciuto Tanto il monitoraggio Del sonno Perché l'ho trovato Veramente Super super preciso E anche il monitoraggio Delle attività Qua è il mio giro Un'oretta circa In bicicletta Con il GPS La traccia Veramente precisa Guardate qua per esempio Ecco qua mi ricordo Perché ho fatto Il giro della rotatoria Perché avevo sbagliato strada E guardate Quasi mi ha preso Al metro Questo giro della rotatoria Quindi il GPS È veramente Molto bene Ma ripeto Tutte le metriche Devo dire Sono state prese Molto bene Anche il battito cardiaco Qua nelle impostazioni Del dispositivo Vabbè Il setup di Alexa Il setup di quali applicazioni Il telefono deve mandare All'orologio Per far sì che lui Vibri E anche la possibilità Di attivare La ricezione di notifiche Solo quando il telefono È bloccato E di attivare o meno Lo schermo E poi qua sotto 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 Quello che dicevo Modalità sonno Voi potete dirgli Più o meno A che ora andate a letto E più o meno A che ora vi svegliate Lui automaticamente Entrerà in non disturbare E disattiverà Il sollevamento del polso Per accendere il display Ecco Questa cosa L'avrei preferita automatica Non programmata Ma quando l'orologio Sente che io dormo Tant'è che c'è Una funzione proprio Che ho fatto vedere prima Per questo Mi disattivo O meglio Mi attiva queste due funzioni L'altra cosa interessante Invece è la modalità notte Che si può attivare Automaticamente Alba e tramonto Cosa succede Cosa succede Quando c'è il tramonto Si abbassa la luminosità Però fa una cosa di colpo Cioè non è proporzionale Dalla luminosità Magari massima Che abbiamo settato Perché magari la giornata Come quella di oggi Ha un sole bestiale Alla luminosità Quella notturna E viceversa Quando c'è L'alba Fa il contrario Insomma Questo aspetto È l'unico Che mi ha fatto Un po' meno Impazzire Per il resto Un sacco di quadranti Personalizzabili Veramente Un ottimo funzionamento Del monitoraggio In generale Un bellissimo display Leggero Impermeabile A meno di 100 euro Perché è vero che Il prezzo di stino È di 129 euro Ma spessissimo Si trova in offerta Intorno agli 85-95 euro E a questo prezzo Non c'è nessun altro Orologio Con un buon altoparlante Un buon microfono Chiamate vocali Bel display Insomma Ve l'ho detto Mi è piaciuto molto Peccato per quell'uno Sennò sarebbe stato Mega best buy Così è solamente un best buy Bell'orologio Brava Xiaomi Ciao